Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi, quest'oggi vi spiegherò come creare Andriy Shevchenko su FIFA 21 Iniziamo Nome Andri Cognome Shevchenko Andiamo direttamente sul nome e sulla divisa e scriviamo Shevchenko Numero di maglia 7 Nazionalità Regione Ucraina Squadra Milan Anno di nascita 1976 Mese di nascita settembre Data di nascita 29 E andiamo su fisico E' alto 1,83 m E pesa 72 kg Andiamo su profilo tecnico Ruolo attaccante Posizione attaccante Piede destro Poi attributi dovete vedere voi Anche al massimo li potete mettere E andiamo su testa Avvolto come a ogni creazione Non mettete niente Andiamo su tone carnagione Scegliamo la quarta carnagione Della terza fila Andiamo su sopracciglia Scegliamo La seconda sopracciglia Della prima fila Colore marrone E andiamo su trasforma E andiamo su trasforma La L è qui E la R è qui Ok ragazzi Facciamo conferma E poi indietro Andiamo su occhi Scegliamo i primi Scegliamo i primi Della terza fila Colore marrone E andiamo su trasforma La L è qui E la R è qui Facciamo conferma E poi indietro Andiamo su Scegliamo il terzo Noso Della terza fila E andiamo su trasforma La L è qui E la R è qui Facciamo conferma E poi indietro Andiamo su bocca Scegliamo la seconda bocca Della terza fila E andiamo su trasforma La L è qui E la R è qui Molto semplice Ok Ok facciamo conferma E poi indietro Andiamo su guance E mascella Mettiamo La seconda Della seconda fila E andiamo su trasforma L è qui E la R è qui E pienizza Diciamo E più o meno A metà Solo che dovete Mettere la L Di pienizza Ovviamente Un po' verso sinistra Così Ok Facciamo conferma E poi indietro Scegliamo Il secondo aumento Della prima fila E andiamo su trasforma La L è qui E la R è qui Facciamo conferma E poi indietro Adesso andiamo su orecchie Scegliamo Le prime orecchie Della prima fila Molto semplice E andiamo su trasforma A dimensioni Lasciate La L A metà Invece la L È qui E la R È qui Molto semplice Facciamo conferma E poi indietro Adesso andiamo su capelli Allora ragazzi Scegliamo Scegliamo Ho avuto un sacco Di capelli Ci sono questi Poi questi Poi questi Poi questi Capelli lunghi Questi Capelli medi Questi Oppure questi Io voglio mettere questi La barba Potete mettere sia questa Che niente Poi andiamo su divisa Allora siccome Quando giocavo a save 5 Lo metteva sempre la divisa dentro Mettiamo divisa dentro Poi maniche come volete Lupito Maglia termica Maglie lunghe Maglie corte Scarpini accessori E la stessa cosa Ragazzi Mettete quelli che volete Io ho messo questi Poi guanti Polso sinistro Polso destro Quali come volete La stessa cosa Ad animazioni Soltanze Stile paglina attiva Stile punizione Stile calcio di rigore Stile corsa Bene ragazzi Il video di oggi Termina qui E io vi do l'appuntamento Ad un prossimo